Questi animali a quattro zampe sono pecore domestiche. Il maschio si chiama ariete, il cucciolo si chiama agnello. È un mammifero etodattilo, come il cervo, ma appartiene alla famiglia degli ovini. Sono rinchiuse per non farle scappare. Le pecore sono anche utili per il vello. Una belato. Ciao pecorelle. Sono contento di farvi il video anche col telulare.